Otama Perciò lontani dal pavimento dovrete stare Per raggiungere la porta, piccoli passi prudenti sulle travi dovrete fare Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere Toglietevi di lì, per favore Ma perché questi gatti in equilibrio non ci lasciano passare? Benvenuti nello spettacolo dei gattini in equilibrio Questi...